Questo video è rivolto a tutti coloro che sono incazzati perché il loro trading non va coloro che sono annegati su youtube perché provano pazientemente a mettere in pratica tutti i consigli che trovano oppure coloro che seguono quel guru del trading, quello presente su instagram, quello col macchinone che poi alla fine tanto guru non era oppure coloro che seguono quei segnali di quel gruppo telegram con migliaia di iscritti che non si capisce come pubblicano sempre vincite festeggiamenti, mille complimenti ma in realtà non ne azzeccano nemmeno uno questo video è per tutti loro perché potranno spendere mesi o anche anni a cercare ma sprecheranno solo tempo e soldi e non faranno mai un soldo con il trading fino a quando non scopriranno come farlo in modo oggettivo a dire il vero lo scopriranno già in questo video di oggi perché vedremo una strategia profittevole la mia strategia è del shoulder secondo lo shampoo di Federica Pellegrini e grazie a questa strategia ti farò notare la differenza fra un trading perdente, quello soggettivo ed un trading vincente, quello oggettivo ed è proprio per questo che il corso di trading che fanno tutti i miei allievi l'ho chiamato per l'appunto trading oggettivo perché si basa su un metodo fatto di regole ben precise, ognuna da adottare in una determinata situazione di mercato e quindi un sistema che non dà spazio all'improvvisazione io sono Giuseppe Ippolito, questo è il nostro video settimanale video in cui affrontiamo nozioni vitali per diventare traders esperti poi vedremo il mio conto reale, la mia meta trader con le operazioni della settimana quelle che avete ricevuto per chi mi segue ma non perdiamo altro tempo, iniziamo subito ad analizzare la mia strategia e dei shoulders dopo che avrai cliccato sul tasto iscriviti quello in rosso presente in quest'angolo che ti permetterà di fruire altri video come questo ma non perdiamo altro tempo, iniziamo subito dopo la sigla in queste ultime settimane molti dei miei follower mi chiedono che cos'è il trading sistematico? in cosa si differenzia dal trading discrezionale? mi fanno questa domanda perché per ora sta girando a manetta su YouTube una pubblicità sai perché la maggior parte dei trader perde? perché non adotta un approccio sistematico io l'avrò sentita un milione di volte ovviamente perché l'algoritmo di YouTube mi ha riconosciuto come trader quindi mi sta martellando quel tipo con la barbetta, con la faccia simpatica, più simpatica che la mia che l'avrò visto così tante volte che ormai me lo sogno la notte parla della differenza fra l'approccio sistematico e quello discrezionale dice una cosa corretta e cioè che un trading basato su un sistema con regole precise è molto meglio di un trading basato sul sentimento, sulla libera interpretazione peccato che loro se non sbaglio e se sbaglio chiedo scusa fanno trading automatico cioè imparano le persone a costruirsi un sistema di trading e a renderlo meccanizzato programmandolo quindi con un software cioè costruire appunto un software con delle condizioni specifiche che quando si verificano fanno aprire in maniera automatica l'operazione la fanno anche chiudere in maniera automatica senza che l'operatore debba fare nulla se non monitorarlo o migliorarlo costantemente eccetera eccetera cosa che a sentirla così è spettacolare però non si guadagna abbastanza lo dico perché ho fatto trading sistematico in maniera automatizzato insieme ad un ingegnere di rete neurale, Raffaele che saluto con risultati non soddisfacenti facevamo circa lo 0,50, l'uno, l'uno e mezzo mensili quindi performance annua che andavano top più o meno sul 10% quando andava bene anche il fondatore di questa scuola che fa la pubblicità di cui parlavamo prima nei suoi video parla di percentuali che non superano il 10% anno è una persona seria quindi non vende fumo dice la verità quindi uno sforzo altissimo che secondo me non è giustificato dai risultati almeno nel mio caso perché ho buttato quasi 4 anni della mia vita anche se non sono buttati effettivamente forse nei prossimi anni con l'intelligenza artificiale questa direzione diventerà interessante ma non oggi comunque al di là del trading automatico abbiamo preso questo esempio per dire che ciò che mi chiedete riguardo al trading sistematico e discrezionale è praticamente identico a quanto propongo sempre come esempio cioè il trading soggettivo, quello perdente ed il trading oggettivo, quello vincente l'unico modello da seguire se si vuole ottenere risultati positivi parliamone analizzando un semplice schema che andiamo a disegnare immediatamente nello schema gigante quindi andiamo a fare il capture andiamo a fare questo schema in cui andremo a vedere nella parte sinistra dello schermo e lo dipingiamo in rosso quelle che sono le caratteristiche del trading di tipo soggettivo mentre andremo a fare in verde quelle che sono le caratteristiche del trading oggettivo il primo, quello soggettivo la prima caratteristica principale sono l'assenza di regole quindi andiamo a scrivere qui no regole la seconda caratteristica è quella che ci sono il trader è pervaso per la gran parte del tempo dalle emozioni che fanno da padrona nel momento in cui si fa trading la terza caratteristica è che c'è molta confusione non avendo regole la confusione diventa una costante confusione la quarta caratteristica che avevo già indicato prima è l'improvvisazione l'ultima è la speranza nel senso che il trader tende ad affidarsi a ciò che è la speranza quindi stiamo lì quasi quasi a pregare affinché vada nella direzione del nostro trade al contrario tutto quello che invece è oggettivo è basato su delle regole precise quindi andiamo a scrivere regole precise non ci sono emozioni quindi no emozioni il trader è distaccato è freddo qualsiasi cosa succede mantiene il self control al posto della confusione c'è la precisione perché il trader sa bene ciò che deve fare e lo fa in maniera precisa anziché improvvisazione c'è consapevolezza sappiamo che se stiamo accumulando una perdita l'accettiamo in maniera consapevole in maniera tranquilla perché abbiamo fiducia nel nostro trading alla fine abbiamo anche l'accettazione quindi noi accettiamo così come appena detto che se un trade è andato male non ci scoraggiamo e andiamo avanti tranquillamente senza cambiare quelle che sono le nostre tecniche senza cambiare money management senza fare nessun tipo di esperimenti quindi è un po' come faccio sempre l'esempio del tennis e cioè che non vince chi fa più punti ma chi fa i punti nei momenti importanti quindi avere la concentrazione il focus in quel determinato punto del match nel tennis e del movimento del prezzo o di quella situazione specifica nel trading fa realmente la differenza c'è tutto un discorso emotivo i grandi campioni del tennis vincono perché hanno mentalmente concentrazione e non si fanno prendere dalle loro emozioni per andare a mettere in pratica il nostro trading oggettivo che cosa facciamo? andiamo a sviluppare quattro passaggi con un acronimo che io ho chiamato RECA RECA R-E-C-A andiamo a prendere l'infografica eccola qua RECA perché utilizzo questo acronimo? R sta per il primo passaggio e cioè il riconoscimento prima di fare il nostro trade la seconda è l'entrata in maniera oggettiva precisa con delle regole ben determinate sistematiche quindi un sistema di trading andiamo a fare l'apertura del nostro trade la chiusura abbiamo anche qui delle regole precise per chiudere sia per settare il nostro stop loss sia per settare il nostro trade profit e poi alla fine sta per gestione attiva quindi monitorare il nostro trade ed eventualmente andare ad apportare delle modifiche se succedono degli eventi ben specifici quindi non dobbiamo andare a improvvisare dobbiamo comunque sapere se succede un evento specifico noi possiamo andare a cambiare il trade come dico sempre un allenatore scende in campo nel suo match con una tattica nel momento in cui succedono degli eventi che cambiano le sorti del match deve riuscire a modificare la strategia la tattica che aveva fatto per poter migliorare le performance quest'ultima dei quattro punti è quella che ovviamente ha maggiore difficoltà e ci vuole molto più esperienza quindi quest'oggi andremo a farti vedere come adottare una tecnica di tipo oggettivo con la strategia e the shoulders e andremo a fare degli esempi specifici sul REC quindi riconoscimento entrata e chiusura non parleremo della gestione attiva in quanto è diciamo un passaggio un po' più avanzato come andremo a vederlo? andremo a vedere alcuni grafici e andiamo a mettere prima di tutto in campo il riconoscimento che è formato da due elementi che devono essere presenti per poter fare la nostra previsione e cioè creazione di neckline e presenza di un livello di supporto resistenza dobbiamo prendere un grafico su euro-dollaro prendiamo la nostra piattaforma trading view anzi iniziamo da da un esempio NZD CAD che è più semplice quindi più facile da spiegare la prima condizione per il nostro riconoscimento è ricercare la neckline di un testa e spalla se non sai che cos'è il testa e spalla è quel disegno con questa forma dove ci sono tre onde di cui l'onda centrale è più alta rispetto alle due precedenti questo è un testa e spalla che indica la possibilità di un movimento che può andare verso il basso se invece fosse un testa e spalla di tipo rialzista il disegno sarebbe questo con l'onda principale al centro che è più lunga delle precedenti e dà una direzione una probabilità che il prezzo vada verso l'alto per esempio in questo in questo esempio specifico ci sono per esempio c'è un testa e spalla qua uno due tre e il prezzo poi va giù qua c'è un altro testa e spalla anche se diciamo è un poco irregolare perché ci sono diciamo queste tre onde quello che andremo a fare noi è andremo a ricercare la possibilità se c'è un testa e spalla qui uno due tre il prezzo potrebbe andare verso il basso abbiamo detto che dobbiamo andare a ricercare una neckline che cos'è la neckline la neckline è la base del nostro testa e spalla quindi se questo è il testa e spalla la neckline sarà formata dalla linea che unisce questi due uno e due minimi se il testa e spalla invece è di tipo rialzista quindi in questa maniera la neckline è quella linea che unisce questi due massimi uno e due nel nostro caso specifico la neckline sarà la linea che unisce questi due minimi dobbiamo vedere una risalita che non deve superare questo massimo quindi il crearsi di un massimo inferiore al precedente per fare un trade di tipo short come deve essere la neckline nella nostra strategia head and shoulders deve essere o di tipo orizzontale oppure di tipo decrescente per un trade di tipo short o crescente in un trade di tipo long quindi orizzontale che cosa significa significa che nel nostro caso è così e va bene se il prezzo fosse stato un poco più in basso la neckline sarebbe stata discendente quindi va bene per il nostro trade se invece fosse stata un minimo che finiva poco prima quindi qui unendo la neckline sarebbe stata crescente quindi ancora a favore di trend e non buona per noi che vogliamo fare un trend verso il basso come ad esempio facciamo l'esempio di questa invece neckline di quest'altro testa e spalla come vedi questo massimo unito con questo massimo da una neckline verso l'alto quindi se questo è un testa e spalla che noi vogliamo utilizzare per la direzione alto va bene che il testa e spalla che la neckline sia di tipo rialzista quindi che sia obliquo verso l'alto oppure orizzontale ma se fosse stato al contrario quindi questo massimo era più alto poi di questo minimo quindi creava una neckline di tipo ribassista non va bene per il nostro trade rialzista andiamo a fare questa simulazione con lo strumento replay presente su trading andiamo a fare questa simulazione abbiamo detto che il primo riconoscimento è una neckline che sia orizzontale oppure a favore del nostro trend in questo caso se noi andiamo a prendere la neckline è abbastanza semplice diciamo da disegnare è questa qui quindi diciamo che poi a livello millimetrico non lo andiamo a considerare però possiamo dire che è di tipo orizzontale quindi va bene come seconda regola presente la presenza di un livello di supporto resistenza quindi andiamo indietro nella storia questa è la cosa un po' più complessa cioè andare a ricercare se c'è un livello storico ed è abbastanza evidente e qui il livello di supporto resistenza è presente guarda un po' qui come il prezzo qua ha fatto rimbalzare qua ha funzionato come supporto qua ha funzionato come resistenza qua come resistenza 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 e qua potrebbe sta funzionando come resistenza quindi è ovvio che abbiamo questo livello che potrebbe portare giù il nostro livello ma anche se andiamo indietro pur non avendo bisogno di chissà quanti rimbalzi già quello che vediamo è abbastanza sufficiente per il nostro trade però se noi allunghiamo questa zona guarda un po' quante volte ha funzionato una e due qua ha funzionato anche qui ha funzionato diverse volte qua pure qua qui in questo punto qua ha funzionato due volte dove siamo adesso quindi è abbastanza probabile pensare che il prezzo possa andare verso il basso in generale comunque visto che parliamo di trading oggettivo con delle regole precise perché un livello di supporto resistenza possa essere ritenuto attendibile quindi utilizzato in questa strategia ci devono essere almeno tre rimbalzi ben definiti cosa che in questo caso ovviamente è abbastanza evidente scendiamo di nuovo sul nostro time frame M30 dove eravamo prima e andiamo a fare la nostra simulazione quindi al momento le nostre due condizioni di riconoscimento ci sono dobbiamo andare a fare la nostra entrata quali sono le regole per la nostra entrata andiamo a prendere l'infografica e sono esattamente tre e cioè il prezzo deve entrare nella zona sensibile che adesso andremo a vedere e non deve andare oltre la zona che adesso disegneremo e poi una volta che è entrata dentro la zona deve fuoriuscire dalla zona sensibile che adesso andremo a vedere e la candela sul quale dovremmo aprire dovrà essere maggiore della precedente con un'ombra massimo il 20% del corpo quindi dobbiamo avere una regola esatta tutte e tre queste condizioni si devono accendere per poter mettere in campo la nostra strategia andiamo a vedere sul grafico come facciamo andiamo a prendere una linea orizzontale e la andiamo a mettere nella chiusura della candela della prima spalla quindi esattamente qui come vedi non lo sto mettendo in cima nel massimo bensì dove si sono chiuse qui le candele relative stessa cosa andremo a fare con il massimo andremo a costruire la nostra zona sensibile in questa maniera quindi ho inserito il livello sulle sui corpi e non sui massimi quindi questa sarà la nostra zona sensibile che abbiamo andiamo a disegnare in questa maniera quindi che cosa facciamo aspettiamo che il nostro pezzo entri dentro la zona non deve chiudere oltre questa zona e poi deve fuori uscire quindi deve creare la nostra seconda spalla andiamo avanti con la storia e vediamo cosa succede il prezzo sale al momento è già entrato nella nostra zona sensibile quindi una delle condizioni è stata rispettata vediamo se se per caso si creava una candela così come sto disegnando il cui corpo chiudeva sopra questa anche se magari potevamo avere un'ombra piccola o grande che sia comunque si chiudeva qui sopra già il nostro riconoscimento non era valido potevamo mollare il trade e cercarne un altro allo stesso modo se per caso la candela crea un massimo superiore al precedente il trade viene invalidato quindi che cosa deve succedere può arrivare fin qui ma non deve mai superare il massimo precedente e comunque la candela deve chiudere all'interno della nostra zona gialla ma andiamo a vedere l'infografica per riepilogare è entrata nella zona sensibile con chiusura non oltre la zona quindi siamo ancora dentro e deve uscire fuori dalla zona quindi ritornare verso il basso e ci deve essere una candela che deve essere più grande della candela precedente e che non deve avere un'ombra pronunciata ma un'ombra talmente piccola da non superare il 20% dello stesso corpo della candela andiamo a vedere se questa condizione si può verificare nel nostro trade al momento questa candela che si è creata si è chiusa fuori dalla zona gialla quindi fuoriuscita dalla nostra zona sensibile è superiore alla candela precedente però come puoi notare la grandezza la grandezza di questa ombra qui è sicuramente superiore al corpo che è questo qui quindi realmente noi vogliamo vedere un'ombra che deve essere piccola facciamo uno zoom cerchiamo di ingrandire noi saremmo potuti entrare se per esempio non ci fosse stata questa ombra magari ci poteva essere un'ombra piccolina ma doveva essere circa il 20% 20-25% del corpo come si fa in questo caso a misurarla andiamo a prendere il nostro misuratore e cerchiamo di misurare l'ombra che in questo caso misura 4 pip 6 mentre il corpo misura 5 pip e 2 quindi non ci sono le proporzioni adatte a noi andiamo avanti con il trade vediamo la prossima candela anche in questo caso la prossima candela come vedi è pur avendo più o meno le stesse dimensioni della precedente il corpo è sicuramente superiore alle precedenti quindi interessante ma questa ombra qui sicuramente non è il 20 è superiore al 20% del corpo quindi non va bene noi vogliamo vedere una candela rossa lunga piena forte che chiude ai minimi quindi anche con un piccolo stoppino con una piccola ombra quindi con i venditori che ancora stanno tentando di spingerla giù con forza andiamo a vedere la candela successiva è verde quindi nel nostro caso l'entrata ci vuole solo una candela rossa non entriamo in una candela verde l'unica regola per entrare è una candela rossa chiusa ai minimi cosa che troviamo in questo caso vedi come questa candela sia superiore alla precedente non ha ombra inferiore e se ci fosse stata doveva essere un'ombra piccola quindi ci sono tutte e tre le condizioni per poter fare la nostra entrata e la faremo esattamente alla chiusura della candela possiamo passare alla fase successiva e cioè come andare a settare la nostra chiusura e lo facciamo ancora prima di poter entrare o comunque contestualmente nella nostra infografica la chiusura dice che lo stop loss può essere inserito oltre il massimo o il minimo noi in questo caso siamo in un testespalla di tipo ribassista quindi le punte sono verso l'alto il nostro trade verso il basso andremo a mettere lo stop loss sopra il massimo della testa se fosse stato invece al contrario testespalla di tipo rialzista quindi un trade verso l'alto lo avremmo messo sotto il minimo creato dalla testa se invece è sceso molto lo metteremo oltre la spalla appena creata adesso andremo a vedere come mentre il take profit deve essere con risk reward minimo 1 a 1 che significa che non possiamo perdere di più di quanto vinciamo se rischiamo 1 dobbiamo vincere minimo 1 oppure più di 1 per esempio perdere 1 vincere 2 quindi facciamo finta che perdiamo 50 euro dobbiamo vincere 100 per avere risk reward 1 a 2 e con ricerca di livello di supporto resistenza adesso andremo a vedere che cosa significa nella pratica quindi la prima regola per mettere lo stop loss è oltre la testa take profit risk reward minimo 1 a 1 andiamo a prendere il nostro strumento posizione e lo andiamo a inserire esattamente qui lo stop loss sopra il massimo della testa come vedi il massimo della testa è questo noi andiamo a mettere lo stop loss qui risk reward minimo è di 1 a 1 come vedi il risk reward è 0,70 qui 82 92 dobbiamo arrivare a 1 eccoci rischio rapporto rischio rendimento 1 a 1 quindi significa che perderemo la stessa cifra di quanto vinceremo questo è il minimo risk reward inseribile poi andremo cosa andiamo a fare andiamo a vedere se ci sono dei livelli invece che sono un po' più bassi che ci permettono di allungare il nostro stop loss in questo momento quello che sicuramente vedo quindi vado ad analizzare i miei supporti resistenze sto vedendo questi rimbalzi qui che sono sicuramente importanti quindi potrei già andare a indicare un livello importante esattamente qui se andiamo nel passato andiamo a identificare come puoi vedere anche in precedenza ha funzionato quindi comunque diamo sempre un occhio a cosa è successo nel passato e ci rendiamo conto comunque che è un livello importante quindi non dobbiamo mettere il take profit sotto un livello che invece potrebbe farci rimbalzare quindi andiamo ad allungare leggermente noi possiamo andare a mettere il nostro take profit esattamente poco poco un pelo prima del nostro livello e vedremo che cosa succede avevo spiegato se qualora il nostro supporto resistenza dove inserire il nostro take profit non ci permetteva un risk reward di 1 a 1 significa che la distanza dal nostro stop loss era troppa noi potevamo accorciarlo e metterlo poco sopra il massimo della della spalla quindi questo è il massimo della spalla noi potevamo mettere lo stop poco sopra in questa maniera noi possiamo migliorare il nostro risk reward che in questo caso come puoi vedere è di 1.38 quindi perdiamo 1 vinciamo una volta virgola 38 non è questo il caso perché comunque è sempre meglio metterlo sopra il massimo assoluto del nostro testa e spalla visto che abbiamo un risk reward già un poco più alto andiamo avanti con la storia vediamo che cosa sarebbe successo inizialmente avrebbe tentennato e poi pian piano inizia a scendere e in questo caso in questo punto avrebbe toccato il nostro take profit come puoi vedere abbiamo seguito delle regole ben precise cioè se tutte le condizioni che noi cerchiamo non si verificano noi non entreremo a mercato quindi non è un discorso a me piace o non piace se ci sono delle condizioni precise entro non devo stare lì a interpretare quello che può essere la mia sensazione non è un discorso di pancia ovviamente la domanda che sicuramente in molti mi potranno fare è quale time frame devo utilizzare possiamo utilizzare tutti i time frame non c'è un time frame migliore di un altro basta che le condizioni che abbiamo detto si stanno verificando quindi se su h1 non si sono verificate le condizioni appena menzionate possiamo scendere su un time frame m30 m15 adattarlo e vedere se queste condizioni sono migliori quindi non siamo obbligati a vincolarci a un time frame dobbiamo cercare di adattarci è ovvio che se il nostro testa e spalla diventa gigantesco perché siamo su un time frame troppo rumoroso quindi piccolo non potremo lavorare bene meglio un time frame sintetico dove riusciamo a misurare le candele di cui parlavo prima andiamo a fare un esempio invece su sterlina dollaro questa volta in direzione alto quindi un testa e spalla di inversione di tipo rialzista la nostra neckline deve essere sempre orizzontale o obliqua verso l'altro e andiamo sul time frame m5 così andiamo a prendere un caso un po' più particolare diciamo meno standard è più adatto magari a chi ha un occhio più attento quindi abbiamo qui questo movimento che fa così 1 2 3 e 4 dove si crea qui questa testa che questa è la spalla precedente con la nostra neckline che come si vede è di tipo rialzista per quale motivo perché questo massimo è superiore diciamo a questi due massimi quindi la neckline va disegnata obliqua verso l'alto e va bene per un trade di tipo long se fosse stata orizzontale così come abbiamo sempre come avevamo detto prima andava bene se invece era di tipo era obliqua verso il basso visto che noi andiamo verso l'alto non sarebbe andata bene in questo caso la prima condizione viene rispettata possiamo andare a vedere se c'è il livello che io per ovvie ragioni ho già indicato 1.36.21 però è abbastanza preciso perché guardate un po' qui come ha funzionato in questo punto qui ha funzionato come resistenza qua come supporto qua come resistenza 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 qui diciamo lo ha sentito e qui anche lo ha sentito le ultime volte e dove siamo adesso potrebbe rimbalzare verso l'alto quindi il livello è presente ovviamente trattandosi di M5 io vado a ricercare sempre sullo stesso time frame anche nel passato non vado sul daily o su time frame troppo troppo ampi andiamo a vedere con la storia che cosa sarebbe successo se ci sono le condizioni quali sono le condizioni adesso per la nostra entrata andiamo a disegnare quella che è la nostra zona sensibile e la vado a indicare mettendo su queste chiusure qui quindi poco più in basso questa è la chiusura della prima spalla cioè queste qui vedete come le chiusure di queste candele rappresentano la parte superiore della mia zona sensibile mentre quella che è la parte inferiore della mia zona sensibile la andiamo a mettere qui sulla chiusura di queste candele e disegniamo in giallo quella che deve essere la zona sul quale il prezzo deve prima entrare non rompere quindi non deve andarsi a chiudere oltre la zona gialla e deve riuscire andiamo a fare la nostra simulazione come vedi il prezzo è esattamente entrato facciamo uno zoom è entrato nella nostra zona sensibile e non è uscito adesso dovremmo aspettare una candela verde che chiuda sopra questa zona gialla che deve essere superiore alle precedenti con un'ombra molto piccola quindi queste le nostre condizioni di entrata seconda candela all'interno della zona sensibile come puoi vedere la candela è arrivata sotto la zona ma non ha chiuso sotto la nostra zona sensibile quindi ancora il riconoscimento è valido ci poteva essere anche un'ombra che finiva fin qui non doveva superare però il minimo precedente quindi si poteva creare più o meno un doppio minimo con chiusura comunque che doveva essere all'interno della nostra zona gialla non al di fuori andiamo a vedere le candele successive candela verde candela rossa ancora indecisione quindi sono tutte dentro la nostra zona sensibile hanno chiuso tutte dentro la nostra zona sensibile questa è la nostra candela ad entrata per quale motivo perché questa candela è superiore alla precedente non ha sopra ombra se ce l'avesse avuta doveva essere un'ombra piccola che deve rappresentare il 20% del corpo della stessa candela andiamo adesso a fare la nostra chiusura quindi già la nostra entrata sarebbe stata in questo punto esatto cioè alla creazione della nuova candela m5 andiamo a mettere il nostro stop loss poco sotto il minimo in questo caso visto che saremo un po' stretti lo posso mettere anche leggermente più largo e andiamo a mettere prima di tutto rapporto risk reward 1 a 1 che è questo e poi sicuramente andiamo a cercare un livello di supporto resistenza per vedere se possiamo metterlo più in alto ciò che ritengo poter essere interessante come livello diciamo supporto resistenza sul quale il prezzo potrebbe arrivare è senz'altro questo qui il prezzo ha rimbalzato qua è stato sentito qui ha funzionato esattamente come supporto qui come resistenza e qui come resistenza quindi per prudenza anche se possiamo ricercare un trade più più ampio quindi con una vincita maggiore io direi di inserire il nostro il nostro target esattamente qui andiamo a vedere che cosa sarebbe successo il prezzo sarebbe schizzato verso l'alto in questo caso alla fine il mio target è stato raggiunto oltretutto sarebbe stato superato con molta molta più forza quindi tutte le condizioni ideali specifiche precise andiamo a fare l'ultimo degli esempi e lo andiamo a fare su usd jpy time frame h1 andiamo a vedere come ci sia stata la creazione di in questa parte di un minimo inferiore al precedente quindi abbiamo la nostra prima spalla la testa se si crea un'altra spalla con le condizioni che abbiamo adesso menzionato cercheremo di fare un trade verso il basso come vedi la neckline in questo caso è di tipo ribassista per quale motivo perché unendo i due minimi è orientata verso il basso il nostro trade è verso il basso quindi la prima condizione viene saudita la seconda condizione il livello lo guardiamo anche su magari su h2 andiamo a cercare quello che è un livello di supporto resistenza effettivamente qui abbiamo un livello abbastanza preciso voglio fartelo notare con maggiore precisione lo mettiamo qui dove ha rimbalzato in precedenza quindi esattamente e questo potrebbe essere anche una zona quindi io quando parlo di supporto resistenza attenzione stiamo parlando sempre di zone sensibili qui è stato sentito una volta due volte qui tre volte già basterebbero per fare il nostro trade però come si nota anche qui anche se non in maniera precisissima ricordatevi che il trade non ama la precisione esatta sui livelli guardate qui guarda qui come ha fatto sentire anche qui è stato sentito qui ha avuto difficoltà qui ha rimbalzato quindi comunque un livello interessante andiamo a disegnare quindi la nostra zona sensibile qui andremo a mettere sulle chiusure eliminiamo questo livello andiamo a mettere le chiusure della testa in questo punto e andiamo a inserire in giallo quella che è la nostra zona sensibile andiamo un po' avanti con la storia andiamo a ricercare la nostra entrata il prezzo è salito è entrato nella zona non ha chiuso oltre la mia zona sensibile vediamo le prossime candele è ancora dentro questa già è una candela buona per quale motivo perché è una candela superiore alla precedente quindi la condizione è stata rispettata andiamo a vedere se questa ombra che c'è in basso misura il 20% o 20-25% del corpo della stessa candela andiamola a misurare prendiamo il nostro misuratore ci mettiamo qui e andiamo a misurare la nostra ombra vale 3 pip e 6 mentre il nostro corpo vale 14 pip quindi assolutamente molto più piccolo rispetto al nostro corpo ombra che ci fa capire che i venditori in questo caso hanno preso la meglio price action significa che ha reagito e i venditori hanno preso il controllo andiamo a inserire quella che è la nostra posizione di tipo short esattamente in questo punto andiamo a mettere il nostro stop loss poco sopra il massimo già mettiamo il nostro risk reward di 1 a 1 quindi e poi andiamo a vedere che tipo di movimento può fare questo trade andiamo a cercare supporto e resistenze un poco più in basso e più o meno io lascerei questo livello per quale motivo perché qui in questo punto il prezzo ha reagito diverse volte guarda un po' come questo livello si è stato sentito qui qui ha funzionato come resistenza qui come supporto qui come supporto quindi è un livello che potrebbe far imbalzare il prezzo oltretutto anche in questi punti è stato sentito diverse volte 1 2 3 4 5 sarebbe bastato già un paio di volte per farci desistere a un trade non oltre questo livello anzi diciamo dobbiamo metterlo un po' più stretto perché non deve essere oltre il livello che cosa significa significa che è possibile che il prezzo scenda tocchi o sfiori il nostro livello e salga senza toccare il nostro take profit quindi ci potrebbe far perdere tutto il profitto accumulato che cosa dobbiamo fare in questo caso così come dice come dicevano le regole che abbiamo visto nell'infografica questo deve essere messo più stretto poco prima un pelo prima del nostro livello in questo caso il rendimento è sceso a 0,9 io andrò ad accorciare il mio stop loss e lo metterò sopra quello che è il massimo della seconda spalla quindi metterò il mio stop qui proprio sopra il massimo avremo in questo caso un risk reward di 1,31 che è abbastanza accettabile visto che è maggiore di 1,1 in questo caso è stato il take profit è stato immediatamente raggiunto abbiamo visto tutto su H2 erroneamente l'abbiamo fatto su H2 ma sarebbe stato meglio su H1 per quale motivo perché su H1 mentre noi siamo entrati così bassi se io fossi sceso se io avessi fatto il trade su H1 potevo entrare qui per quale motivo andiamo a misurare la candela questa candela era una candela che fuoriusciva dalla nostra zona gialla era superiore alla precedente e aveva un'ombra che misurava un pip e 3 mentre il corpo misurava 7 pip e quindi ombra inferiore al 20% del corpo che ci avrebbe permesso di entrare prima quindi se io entravo in questo punto con target poco sopra il mio livello avrei potuto mettere anche uno stop loss sopra il massimo mantenendo un risk reward di 1,5 ritornando a quello che è l'infografica l'ultimo punto sarebbe quello della gestione attiva e cioè accorciare lo stop loss quando il prezzo si inizia a direzionare verso la nostra previsione noi andiamo a mettere lo stop al pareggio in maniera che se dovesse ritornare indietro comunque non accusiamo nessuna perdita il trailing stop cioè mettere uno stop dinamico e far sì che si possa far correre la vincita qualora c'è forza e può superare il nostro take profit che cosa facciamo andiamo ad accorciare lo stop loss in maniera dinamica in maniera da poter spremere al massimo il nostro trade la chiusura anticipata ovviamente nella gestione attiva è importante sapere che se sta raggiungendo il nostro take profit ma ci dà un segnale di inversione quindi una debolezza nella prosecuzione del movimento verso la nostra direzione che cosa facciamo chiudiamo in anticipo e portiamo a casa anche parzialmente quello che era il nostro obiettivo iniziale tutte le cose che sono più difficili da fare rispetto a quelle che abbiamo menzionato diciamo nel REC la gestione attiva è la fase più complicata è un po' più ostica in un percorso di trading per qualsiasi cosa potete scrivervi le vostre domande direttamente nei commenti di questo video cercherò di rispondervi alla menopeccia adesso andiamo a vedere quella che è la mia metatrader con i risultati delle operazioni che avete ricevuto ed eccoci qua siamo sulla mia metatrader si tratta di un conto reale e lo vedete da qui il real one come al solito metto del nastro evitiamo che si pensi che ci sia un conflitto di interessi nel mostrare un broker piuttosto che un altro quindi nessuna pubblicità occulta non influenzo la vostra scelta sul broker andiamo a vedere le operazioni sia di questa settimana che della scorsa queste sono le operazioni delle settimane precedenti andiamo a vedere la scorsa settimana che si chiude con un profitto di 755 euro mentre questa settimana una perdita di circa 300 euro quindi per la precisione 296 euro di perdita la prima operazione usd chf lunedì della scorsa settimana due lotti 236 euro di perdita poi abbiamo il canadese yen un lotto e due prima e un lotto e quattro dopo quindi 297 euro la prima volta 393 la seconda volta quindi un totale di poco meno di 700 euro per questa operazione sicuramente interessante meno 212 euro quindi una perdita per l'australiano dollaro e poi il neozelandese scusate il natural gas 509 euro di vincita che ha eseguito esattamente la previsione che avevo indicato io ho chiuso leggermente in anticipo perché avevo paura che stesse per ritornare indietro invece poi alla fine si è steso in maniera eccellente poi andiamo su NZDCHF quella che vedete qui due lotti e 40 391 euro di perdita il profitto più interessante della settimana scorsa sterlina neozelandese due lotti 706 euro di vincita anche il dollaro yen due lotti e 40 procura una piccola vincita di 228 euro e poi la perdita diciamo la perdita della settimana più più importante 539 euro data dal franco svizzero yen andiamo invece alle operazioni di questa settimana settimana che non è andata bene ma in generale il periodo sicuramente non è dei migliori quindi siamo partiti con una perdita di 355 euro su sterlina australiano poi seconda perdita anche se lieve 293 euro di perdita per australiano yen poi il segnale che avevo dato nel video di inizio settimana 788 euro procurato dal neozelandese dollaro che è andato in edging col segnale che avete ricevuto proprio ieri che la maggior parte di voi non ha aperto mentre nel caso mio io ho dimenticato a eliminare il pendente come vedete mi ha procurato 435 euro di perdita si è aperto proprio qui su vi ricordate avevo detto di entrare solo in presenza di candela rossa io invece ho dimenticato eliminare il mio pendente quindi ho accumulato una perdita di 435 euro che mi porta a un bilancio di circa 300 euro di perdita per questa settimana quindi periodo non eccellente ma sicuramente ritorneremo in primavera alle performance costanti che ci sono state diciamo per tutto il 2020 e per tutto per le prime settimane del 2021 è 21